L'EBTU Abruzzo e l'EBTER Abruzzo in collaborazione con il Consorzio Impresa e Sociale e con il patrocinio gratuito dei comuni di Pescara, Montesilvano, San Giovanni Teatino e della provincia di Pescara hanno dato vita ad un corso gratuito in materia di integrazione dedicata a lavoratori disabili. L'obiettivo del corso è quello di intraprendere un percorso di crescita strutturato per i dipendenti delle aziende che hanno il desiderio di offrire alle persone svantaggiate un supporto e per favorire al meglio il loro inserimento in azienda e la crescita delle loro potenzialità. Questa mattina a Pescara la presentazione del progetto. È stato organizzato da EBTU, che è l'ente bilaterale per il turismo, ed EBTER, che è l'ente bilaterale del terziario, insieme al Consorzio. La finalità di questo progetto è quello di includere nelle nostre aziende, quelle che noi rappresentiamo, questi ragazzi che hanno una lieve disabilità e avviarli nel mondo del lavoro. Dobbiamo far sì che questa regione possa includere maggiormente nelle proprie attività, quindi noi ci occupiamo in qualità di presidente dell'ente bilaterale del turismo, ovviamente del settore del turismo e la collega del commercio. Dovrebbe essere un progetto che interessa a tutti. Noi stiamo spendendo ovviamente tanto, tanto, tanto impegno affinché si trovino delle sensibilità rispetto a un'inclusione vera e propria nel mondo del lavoro. Abbiamo bisogno anche di questi ragazzi e abbiamo anche delle aziende disponibili che sono qui presenti con noi oggi. Abbiamo fatto la prima esperienza includendo i ragazzi in un'attività delle affissioni. Da lì abbiamo pensato di allargarci un po', di coinvolgere altre cooperative per far sì che ci fosse la possibilità di includere tanti ragazzi, partendo da due, per arrivare non si sa dove. Abbiamo trovato l'appoggio di tante aziende che si sono resi disponibili e abbiamo pensato di fare questo corso per dar più professionalità a chi accoglierà i ragazzi nel mondo del lavoro. Ad oggi sono cinque ragazzi che sono assunti sulle affissioni e sulla gestione di parchi cittadini e adesso vorremmo orientarci nel mondo imprenditoriale chiedendo la mano di tutte le aziende.